Sì, circa un anno fa abbiamo presentato un esposto, ma adesso la magistratura farà i suoi passi, l'inchiesta giudiziaria va avanti, io non credo che sia opportuno commentare un'inchiesta in corso. Quello che invece mi interessa dire è che sul piano politico è fondamentale a questo punto rinnovare, lo era già prima, ma lo è ancora di più adesso, rinnovare il comitato via, ma non soltanto sostituendo le persone, ma anche dando nuove disposizioni di legge che rendono più trasparente questo comitato. Noi tra l'altro abbiamo anche dei fatti, abbiamo trovato su internet dei fatti che non sono penalmente rilevanti, ma che gettano qualche ombra sul funzionamento del comitato. Banalmente, ne racconto uno solo, per la PowerCoop di Avezzano il comitato via ha dato il proprio parere favorevole con prescrizioni e in contemporanea, quasi in contemporanea, la PowerCoop affidava nel comune di Russi la progettazione di uno stabilimento, di una PowerCoop analoga a quella di Avezzano, questo del Ravennate, la affidava all'architetto Giovanni Maccarini, che scopriamo oggi in base all'inchiesta della magistratura, che potrebbe essere socio di un affare di Sorgi. È un conflitto di interessi latente? Forse, non lo sappiamo. Non è penalmente rilevante, ma comunque, dal punto di vista politico, è importantissimo. È indispensabile cambiare, è indispensabile rendere le cose più trasparenti e far sì che i cittadini possano partecipare ai procedimenti e possano essere informati. Tenete conto che questa è un'esigenza anche delle ditte, perché le ditte che propongono qualcosa al comitato via hanno bisogno di tempi certi e di una decisione trasparente, anche loro. Quindi l'interesse di tutti, nostro, degli ambientalisti, e anche delle ditte che propongono progetti. Tra le altre cose ci sono molti progetti assolutamente validi che vengono proposti al comitato via. Spesso sono persi nei meandri di un comitato che ha sempre funzionato male negli ultimi anni e ha funzionato in maniera allucinante, con 30, 40, a volte anche 50 progetti esaminati in un giorno, in due giorni, il che è semplicemente impossibile.